Iniziamo il quarto e ultimo incontro di questo corso di autoformazione, questo incontro abbiamo ancora a Simona Repole che abbiamo già apprezzato nell'incontro su come leggere e capire i bilanci comunali, oggi affrontiamo la finanza di progetto più conosciuta perché in Italia piace parlare inglese come project financing, quasi tutti i comuni si stanno affidando molto a questa modalità di appalto, questa modalità di affidamento di opere le più svariate, apparentemente ci viene presentata come, ma che problema c'è, il privato costruisce un'opera, la finanzia lui e poi ovviamente ha i suoi ritorni con la concessione entro un certo numero di anni, quindi è una perfetta ipotesi di collaborazione, di partnership pubblico privato. Siccome poi ogni volta che questo succede si presentano le famose fregature abbiamo deciso di provare ad affrontarla, cioè capire meglio che cos'è la finanza di progetto, perché è pericolosa, cioè perché non risponde a quello che annuncia, ma spesso si tratta di una privatizzazione dei guadagni, dei profitti e una socializzazione degli oneri, mi fermo qui ovviamente perché c'è chi è più esperta di me nello spiegare che cos'è la finanza di progetto, cosa succede concretamente e quali sono i rischi di questo tipo di procedura e quindi mi fermerei qui e dare immediatamente la parola a Simona Repole che ringraziamo per questa doppia disponibilità e ovviamente per il contributo che è sempre in grado di dare sia in termini di competenza sia in termini ovviamente di attivista, di un arco ampio di persone che vogliono sostanzialmente cambiare il mondo, quindi benvenuta a Simona la parola a te. Scusate, un'ultima cosa sulle procedure, Simona farà la sua introduzione assolutamente libera dal punto di vista dei tempi, ci dirà lei più o meno in quanto tempo conta di fare la relazione e poi ci sarà spazio per domande e riflessioni, chiederei a tutte e tutti di mantenere l'autodisciplina perfetta che abbiamo avuto nei precedenti incontri, quindi domande o interventi brevi a cui Simona replicherà volentieri. Mi fermo qui, la parola a Simona. Sì, buonasera a tutte e tutti, ringrazio voi per avermi invitato perché ovviamente ogni diciamo ogni occasione di, come dire, illustrare temi, aspetti della pubblica amministrazione molto complessi è un'occasione anche per me per aggiornare, insomma studiare i rapporti più recenti su queste tematiche, quindi insomma e anche le vostre domande mi fanno capire poi quali sono gli aspetti, diciamo il punto di vista esterno rispetto invece ad una visione mia che è anche molto tecnica visto che lavoro all'interno di una pubblica amministrazione. Allora io ho provato a, come dire, a preparare un intervento nel quale comunque faccio una breve introduzione sul mondo degli appalti, delle concessioni e in cui proverò anche un po' a spiegare e a illustrare alcuni concetti che spesso vengono utilizzati, termini che vengono utilizzati come sinonimi e che in realtà dietro i quali invece ci sono strumenti giuridici abbastanza diversi. Ovviamente poi il cuore della relazione sarà quello appunto di entrare nel merito della finanza del progetto, di come funziona, quali sono le principali norme, strumenti e appunto quelli che vengono individuati come vantaggi da linee guida e normative che promuovono questa tipologia di strumento ma anche e soprattutto gli elementi di criticità legati all'utilizzo della finanza di progetto e in generale dei partenariati pubblici privati. Proverò a fare tutto nel limite massimo di 45 minuti, 50 minuti appunto come diceva Marco in modo tale da darvi eventualmente la possibilità di rispondere alle domande. Ovviamente io metto a disposizione quelle che sono le mie conoscenze in questo ambito e quindi rispetto ad informazioni anche più di dettaglio che vorrete sapere proverò a soddisfare queste informazioni se sono in grado e mi fa piacere di sperimentare un po' per la prima volta l'illustrazione di queste tematiche e quindi capire anche con voi quali sono gli aspetti diciamo più complessi e quelli più interessanti da approfondire e da analizzare. La prima slide che vi mostro, mi confermate che si vedono le slide? Sì? Ok, ok. Allora nella prima slide vi ho proposto innanzitutto dei dati su quello che è il sistema degli appalti in Italia, quindi qual è il valore degli appalti pubblici che fa la pubblica amministrazione. Questo valore lo ritroviamo nella relazione CHEANAC che è l'autorità nazionale per l'anticorruzione che è diciamo l'autorità che è principalmente deputata al controllo dei contratti pubblici quindi da parte definiti quindi stipulati da tutte le pubbliche amministrazioni e che ci dice che per quanto riguarda l'anno 2022 il valore complessivo degli appalti affidati dalla pubblica amministrazione a soggetti privati è stata di 290 miliardi di euro, quindi è un importo molto elevato che come vedete rispetto agli appalti affidati nel 2021 e nel 2020 è un valore molto in crescita. ovviamente questo dipende molto anche da tutti i finanziamenti PNRR che stanno stimolando i comuni a effettuare gare e quindi affidare lavori e servizi anche in relazione ad opportunità di finanziamento legate al PNRR. Le procedure di gara che sono state svolte nel 2022 sono 233 mila e vi faccio notare un dato anche rilevante che mette in evidenza ANAC cioè che in media nelle gare di appalto, di concessione, il numero di operatori che partecipa alle gare è molto basso. Quindi in media negli appalti di servizi, ora poi definiremo bene questi concetti più avanti, quindi per il momento parliamo genericamente di appalti, quindi di esternalizzazione che fanno i comuni. Per quanto riguarda le gare per l'affidamento di servizi, in media alle gare partecipano solo tre operatori economici, per quanto riguarda le gare dei lavori soltanto otto operatori. Quindi questo significa che anche un po' quello che è il mito della concorrenza, che ovviamente è un principio fondante del codice degli appalti, che il codice che disciplina il mondo dell'esternalizzazione nella pubblica amministrazione è un po' sfatato dal fatto che poi nella pratica molte gare partecipano pochi operatori e quando parliamo di partenariati pubblici privati o di finanza di progetto dove gli importi di gara sono molto elevati, quindi parliamo di valori di contratto al di sopra dei 100 milioni di euro, spesso l'operatore economico che partecipa è uno. Quindi questo come elemento di attenzione rispetto al fatto che nelle gare si vale il principio della concorrenza, ma non è detto che poi ci sia una partecipazione tale per cui poi questa concorrenza, almeno in alcuni ambiti, sia effettivamente ampia. Nel 2023 è stato approvato un nuovo codice degli appalti. Mediamente ogni 8-10 anni il codice viene cambiato, viene aggiornato. Le scuole di pensiero sono per chi ha disciplinato in maniera sempre più dettagliata il mondo degli appalti. Nell'ambito degli studi sulla corruzione ovviamente il tema degli appalti e dell'esternalizzazione è molto attenzionato, è considerato uno degli ambiti in cui la corruzione entra di più nella pubblica amministrazione e quindi da una parte abbiamo avuto nel corso dei decenni l'alternanza tra codici di appalto molto minuziosi che disciplinano molto, quindi danno tantissime regole, riducendo tantissimo la discrezionalità da parte dell'amministrazione nelle procedure di acquisto. A fronte di normative un po' più leggere, ma di poco, questo nuovo codice degli appalti, quindi mentre prima avevamo spesso una legge sugli appalti e il regolamento di attuazione della legge, il nuovo codice si presenta come codice unico, anche se poi si caratterizza per una numerosità di allegati dove quindi comunque la disciplina e la regolamentazione è molto dettagliata, quindi molto specifica. Per quanto riguarda quindi il mondo degli acquisti della pubblica amministrazione ho provato a schematizzare quelli che sono gli strumenti con i quali l'amministrazione acquista all'esterno. Quando l'amministrazione pubblica, quindi comuni, regioni, province, quindi la pubblica amministrazione in generale, quindi riesce a erogare servizi o svolgere attività con il proprio personale, si parla di acquisti in economia, cioè la realizzazione di un'opera oppure l'erogazione di un servizio viene fatta direttamente con il personale, quindi la dicitura è acquisti in economia. Quindi sono i tecnici che progettano, per esempio progettano una nuova opera pubblica, perché anche la progettazione di un'opera può essere esternalizzata con un appalto. Quando viene fatta in economia sono i tecnici comunali che progettano una nuova opera, gli operai che eseguono un intervento sulla viabilità comunale, le insegnanti, educatrici, dipendenti del comune che operano all'interno di un nido, l'assistente sociale che opera all'interno dei servizi sociali e supporta le famiglie in difficoltà. Sono acquisti in economia, quindi l'amministrazione riesce a erogare servizi o a realizzare interventi con i propri dipendenti. Una prima modalità con cui i comuni esternalizzano è l'affidamento in house. Affidamento in house sono affidamenti diretti, quindi che vengono fatti senza gara di evidenza pubblica nei confronti di società pubbliche, che possono essere non totalmente pubbliche, ma anche miste pubblico-private, con tutta una serie di regole che non stiamo qui a raccontare perché servirebbe un altro corso sulle società partecipate. Quindi comunque ci sono delle norme che consentono ai comuni di affidare direttamente senza gara servizi e anche diciamo opere a società partecipate, a patto che il comune eserciti su queste società un controllo analogo a quello che eserciterebbe qualora quell'attività fosse svolta all'interno dell'amministrazione. Le altre due tipologie invece di acquisto sempre tradizionali sono l'appalto e la concessione. Proviamo a capire qual è la differenza tra questi due strumenti perché poi la concessione, cerchiamo di capirla bene perché è collegata al partenariato alla finanza di progetto. Quando parliamo di affidamento in appalto di un servizio di un lavoro, facciamo riferimento ad un bisogno che ovviamente nasce da parte dell'amministrazione. Quindi l'amministrazione ha bisogno di acquistare dei computer, quindi ha bisogno di comprare un bene, si rivolge ad un fornitore, un mero fornitore che fornisce quel bene e quindi lo vende all'amministrazione. Oppure l'amministrazione ha bisogno di un servizio, facciamo un esempio, il servizio di pulizia degli immobili, delle sedi comunali. È un servizio che non può gestire direttamente perché non ha dipendenti con quel tipo di mansione, allora si affida in appalto il servizio di pulizia. Quindi anche lì è un fornitore, quindi un soggetto, che per conto del comune eroga questo servizio ed il servizio è rivolto al comune. Quindi il comune ha bisogno di un bene, di un servizio, ma anche di un'opera. Il fornitore fornisce all'amministrazione quel bene, quel servizio o quell'opera. Quindi l'appaltatore, così viene definito il privato a cui l'appalto viene affidato, è un mero fornitore che si rapporta con la pubblica amministrazione, che acquista quel bene, servizio opera. Quando è che invece l'esternalizzazione avviene mediante lo strumento della concessione? La concessione è un contratto con cui si affida l'esecuzione di lavori, oppure la fornitura di bene o la gestione di servizi, che si caratterizzano per il fatto di avere degli utenti finali. Cioè in questo caso l'attività che viene svolta dal concessionario non è un'attività che si rivolge direttamente alla pubblica amministrazione, indirettamente sì, perché il bisogno viene sempre dalla pubblica amministrazione, facciamo un esempio, la gestione dei parcheggi a pagamento che ci sono sul territorio comunale. L'amministrazione ha delle aree destinate a parcheggio, le mette a pagamento, ha necessità di una gestione di questi parcheggi. Quindi fa una gara di concessione in quanto l'erogazione di quel servizio non è rivolto direttamente all'amministrazione, ma è rivolto ai fruitori dei parcheggi. Quindi ci saranno degli utenti finali che fruiranno di quel servizio, magari la concessione può provvedere anche a una riqualificazione dei parcheggi, quindi ci sono dei lavori e poi c'è la gestione dei parcheggi. Ci sono delle tariffe che il concessionario riscuote, quindi mentre nel caso dell'appalto il comune richiede un servizio, un'opera, un bene e paga un corrispettivo, nel caso della concessione, la caratteristica della concessione è che il corrispettivo collegato alla realizzazione di quell'opera, alla gestione di quel servizio, consistono nel diritto di gestire quell'opera e di erogare quel servizio. Quindi in questo caso c'è la pubblica amministrazione che acquista comunque un bene, un servizio, un'opera, affida questo bene e questo servizio al concessionario, che a sua volta però eroga dei servizi ai fruttori dei beni. Un altro esempio può essere l'affidamento in concessione della gestione del servizio della mensa, quindi anche qui c'è la necessità di erogare, quindi di preparare i pasti, erogarli, distribuirli nelle varie scuole e di riscuotere le tariffe da parte delle famiglie che pagano il servizio mensa. Quindi vedete come il rapporto, quindi passiamo da un rapporto di mera fornitura nel caso dell'appalto, quindi servizi, beni che l'amministrazione chiede per se stessa, quindi che sono rivolti al comune, ad un rapporto di concessione dove invece il servizio che viene regato, l'opera che viene realizzata, sono rivolte agli utenti finali e quindi il corrispettivo è fondamentalmente dato dai ricavi che il concessionario riceve dallo sfruttamento di quell'opera alla gestione di quel servizio. Non è detto che il comune comunque non paghi al concessionario un canone, questo soprattutto quando la tipologia di servizio e le tariffe che caratterizzano quel servizio non sono in grado di consentire al concessionario di recuperare tutti i costi collegati alla gestione del servizio. Quindi la concessione può essere un rapporto in cui l'amministrazione introita un canone di concessione, questo nel caso in cui la tariffazione del servizio ha dei flussi tali da consentire una redditività e anche di pagare al comune un canone, oppure una concessione a zero, quindi il concessionario la gestisce, non eroga un canone al comune, il comune non paga nulla al concessionario, o può essere anche una concessione in cui il comune paga un canone al concessionario e questo per esempio nel caso in cui l'amministrazione chiede che le tariffe abbiano una caratteristica tale da consentire un'accessibilità più ampia al servizio, allora in quel punto essendo le tariffe non a mercato il comune integra le tariffe pagate dai fruitori dei servizi e quindi paga un canone al concessionario. Quando il comune deve acquistare o con appalto o con concessione un bene, un servizio, un'opera, deve programmarlo. Se vi ricordate nell'intervento che abbiamo fatto sul bilancio il documento di programmazione per eccellenza dell'amministrazione è il documento unico di programmazione. All'interno del DUP, oltre a tutti gli elementi che abbiamo visto l'altra volta, sono contenuti il programma triennale delle opere pubbliche che però elenca solo i lavori di importo superiore a 150 mila euro, quindi tutti gli altri non sono elencati in questo programma e il programma triennale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a 140 mila. Quindi quando c'è l'esigenza o di affidare in appalto o di affidare in concessione un bene, il servizio e il lavoro, il comune deve inserirli nel DUP e nei programmi triennali. Ovviamente la programmazione all'interno del DUP implica che poi all'acquisto devono corrispondere delle risorse all'interno del bilancio di previsione che possono essere spesa corrente, quindi se vi ricordate la distinzione tra spesa corrente e spesa in conto capitale, spesa corrente se si vanno ad acquistare beni, servizi o manutenzioni ordinarie di immobili, quindi la spesa la troviamo nella spesa corrente. Spesa in conto capitale quando parliamo di spese collegate a realizzazioni di opere pubbliche, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ma anche acquisto di arredi, attrezzature, automedzi, cioè quelli che vengono definiti come beni a fecondità ripetuta, cioè sono beni che hanno una durata negli anni quindi ampia e che quindi vanno nella spesa corrente perché sono comunque assimilati a investimenti che la pubblica amministrazione fa. Come funziona quindi in maniera ordinaria l'affidamento di un appalto o di una concessione? Allora sicuramente l'affidamento di un appalto o della concessione presuppongono un'analisi dei bisogni che il comune deve soddisfare con quell'affidamento. Quindi c'è un'analisi dei bisogni da soddisfare, predisporre un progetto, è chiaro che se siamo nell'ambito delle opere pubbliche ci sono vari livelli di progettazione, il capitolato tecnico-amministrativo che è il documento nel quale l'amministrazione individua tutti gli impegni e gli obblighi che l'appaltatore o il concessionario si deve assumere con la stipula di quel contratto e con quel rapporto di esternalizzazione. Il quadro economico dell'intervento, quindi quanto costa tutto l'appalto, la concessione e lo schema di contratto. Quindi questi sono i documenti che vengono predisposti e sono predisposti dall'ente in funzione di valutazioni, analisi e valutazione dei bisogni da soddisfare che fa l'amministrazione comunale. Una volta definiti tutti questi atti c'è la decisione a contrattare, quindi la prenotazione delle risorse in bilancio, è proprio un atto in cui si dice l'amministrazione ha bisogno di acquistare in appalto o in concessione, vengono evidenziate tutte le motivazioni, insomma sono documenti veramente molto molto corposi che devono essere fortemente motivati. Una volta quindi definiti tutti gli atti di gara c'è la gara d'evidenza pubblica, il bando, le pubblicazioni, le sedute di gara, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione, nella stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione del contratto, che a volte può avvenire anche, l'esecuzione può iniziare anche prima che il contratto sia stipulato nei casi di urgenza. Tempi medi per bandire una gara ovviamente dipende dalla complessità, però mediamente occorrono almeno sei mesi, in alcuni casi anche un anno. Quindi è un'attività veramente molto complessa e articolata. Ripeto, parliamo di gare, quindi poi ci sono gli affidamenti diretti, contratti di valore più basso, ovviamente i tempi sono più rapidi, però comunque i tempi sono importanti. Qui vi ho messo le soglie, perché per informazione generale, tra l'altro il nuovo codice degli appalti, nell'ottica anche di puntare di più alla tempestività degli affidamenti, ha elevato la soglia degli affidamenti diretti, degli appalti. Perché mentre prima si potevano fare affidamenti diretti, cosa significa diretti? Cioè affidare un appalto ad un soggetto senza fare procedura di gara, senza fare richieste di preventivi, senza verificare che quell'offerta è quella più conveniente da un punto di vista economico. Quindi mentre prima la soglia per l'acquisto per gli appalti di beni e servizi era cento, era quaranta mila euro, oggi possiamo fare affidamenti diretti di appalti, di beni e servizi fino a centoquaranta mila euro, non inclusa l'IVA, quindi più IVA. Fino a centoquaranta mila euro più IVA, oggi un comune può fare un affidamento diretto. Quindi ho bisogno di acquistare dei computer, spendo centoquaranta, centotrentanome mila euro, individuo un soggetto da cui acquistare i PC, li compro, non faccio la gara. Ovviamente diciamo che per una questione anche di dimostrare l'economicità dell'acquisto che comunque poi è una dimostrazione che è grava sul responsabile del procedimento dell'acquisto, è prassi comunque chiedere dei preventivi e dimostrare che comunque l'affidamento diretto lo facciamo ad un soggetto perché abbiamo comunque prima fatto un'indagine di mercato, chiesto dei preventivi e verificato che quello era il prezzo migliore. Rispetto al bene o al servizio da acquistare. Per quanto riguarda i lavori invece la soglia è di centocin... Quindi fino a centocinquanta mila euro di lavori si può non fare la gara e affidare direttamente l'appalto. Le soglie invece che poi al di sopra quindi dei centoquaranta e dei centocinquanta il comune deve fare una gara, ci sono varie tipologie di procedura di gara, di evidenza pubblica, ristretta, previa pubblicazione di un bando, eccetera, eccetera. Ci sono delle soglie però che impongono agli amministrazioni di fare la gara a livello europeo, la gara europea. Quindi le pubblicazioni dei bandi vengono fatte anche sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Sono le gare diciamo più lunghe e anche più costose perché ovviamente se guardate gli importi sono anche le gare di valore più importante. Per quanto riguarda i lavori e le concessioni parliamo di 5 milioni di euro. Gli appalti di servizi e forniture oltre i 215 mila euro. Per quanto riguarda i servizi sociali assimilati 750 mila euro. Quindi oltre queste soglie la gara deve essere europea. Un'altra caratteristica del nuovo codice è di definire quali gare possono fare i comuni direttamente e quali no. Perché la tendenza, è una tendenza già di diversi anni, è quella di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, cioè il numero degli enti pubblici che fanno gare. La tendenza di andare verso un accorpamento dei soggetti che fanno le gare. Sapete, nota la CONSIP, SPA, che è la società che fa capo al Ministero, al MEF, e che effetto acquisti per tutte le pubbliche amministrazioni. Sono noti purtroppo anche gli scandali che in alcuni casi hanno caratterizzato queste gare perché sono gare di importo elevato e qual è l'elemento, il vantaggio per le pubbliche amministrazioni di aderire alle gare CONSIP che non devono fare una gara. Cioè in quel caso possono fare una richiesta di ordinativo, per esempio sulle utenze è il caso classico, quindi CONSIP fa delle gare sui costi dell'energia elettrica, il gas e il comune invece di fare tutte quelle procedure con quei tempi che vi dicevo prima, chiede se c'è la disponibilità ad aderire a CONSIP e quindi fa una richiesta di ordinativo e stipula il contratto con il soggetto che è stato individuato in gara da CONSIP. Oltre a questa modalità ci sono anche centrali di committenza a livello regionale, anche in Toscana per esempio abbiamo diverse centrali di committenza, ma in più quindi si vuole ancora di più limitare la possibilità per i comuni di fare gare e a volte anche di gestire l'esecuzione degli appalti, quindi con quest'ulteriore vincolo, cioè i comuni che possono fare affidamenti in modo autonomo sono quelli che affidano appalti sotto i 140 mila, quindi la soglia degli affidamenti diretti, oppure per quanto riguarda i lavori sotto i 500 mila. Per le soglie più elevate la norma oggi chiede che il soggetto che fa la gara deve essere qualificato, quindi parliamo di comuni che devono avere determinate competenze al proprio interno, che devono fare corsi di formazione, che devono dimostrare di aver fatto, che devono avere aggiudicato gare. A molti comuni questa cosa non è ancora entrata a pieno regime perché ovviamente si sta cercando di dare il tempo ai comuni di qualificarsi, però la tendenza è di ridurre il numero dei comuni che faranno le gare di appalto. Allora abbiamo visto quindi gli acquisti in economia, quindi attività svolte direttamente dal comune, affidamenti a società in house, affidamenti diretti, l'appalto e la concessione. Veniamo al concetto di partenariato pubblico privato, che prima anche Marco, a cui prima Marco faceva riferimento. Sotto la sigla di partenariato pubblico privato in realtà si cela una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Si fa riferimento al partenariato pubblico privato in generale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione deve affidare a un soggetto privato l'attuazione di un progetto che comprende sia la realizzazione di opere pubbliche, sia la gestione di servizi per un periodo di tempo molto lungo. Quindi sotto il termine partenariato pubblico privato ci sono tantissimi strumenti che ora andremo a vedere più nel dettaglio e quindi anche la finanza di progetto. Le caratteristiche del partenariato, le un po' riassunte in questo schemino, sono, fa riferimento a contratti quindi di cooperazione pubblico privato che hanno una durata meglio lunga, quindi sono contratti che hanno una durata lunga. In genere per esempio gli apparti, le concessioni hanno una durata biennale, triennale e non di più, quindi sono rapporti brevi, corti nel tempo, mentre i partenariati pubblici privati si caratterizzano per essere rapporti lunghi che durano molti anni. Il finanziamento nel caso del partenariato è sostenuto in tutto e in parte dal privato e non dal pubblico. Il trasferimento dei rischi, cioè la maggior parte dei rischi collegati alla realizzazione di questo progetto, alla sua gestione, devono essere collocati soprattutto sul privato. Quindi c'è un ruolo attivo da parte del privato e l'amministrazione diciamo ha il compito di definire più gli obiettivi generali, ma il ruolo del privato è preponderante nella costruzione e nella gestione del progetto ed è un modello procedimentale aperto appunto perché sono diversi gli strumenti che sono sotto al cappello del partenariato e che ora andiamo a vedere, proprio diversi strumenti giuridici tra di loro. Quindi all'interno del partenariato, a differenza di prima che abbiamo visto una mera fornitura oppure il concessionario che gestisce un servizio, abbiamo più una serie di elementi che lo caratterizzano, c'è la progettazione di un'opera o di un servizio, c'è il finanziamento di quell'opera o del servizio in tutto e in parte, quindi c'è tutta l'esecuzione dell'opera, quindi costruzione o anche ristrutturazione di un immobile, efficientamento energetico di un immobile, la gestione e quindi lo sfruttamento economico di quel bene e la manutenzione. In genere per quali esternalizzazioni il partenariato pubblico-privato viene sponsorizzato, diciamo così, viene suggerito? Viene suggerito in genere per progetti molto complessi e innovativi, quando il ricorso a capitale, risorse e know-how dei privati può comportare dei benefici per la pubblica amministrazione e gli utenti finali dei servizi e quali possono essere questi benefici? Benefici di carattere economico, perché si dovrebbero concretizzare in un minor costo di realizzazione e di gestione dell'infrastruttura per la pubblica amministrazione, ma anche benefici in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi. Come vedete in quel riquadrino sulla destra in basso, i modelli tradizionali, quindi dell'appalto della concessione, in genere hanno dei costi più bassi, costano meno rispetto ai partenariati e si dice perché hanno un'addizionalità da un punto di vista sociale più bassa. Il partenariato pubblico-privato che è più costoso si giustifica se poi crea valore e crea valore soprattutto per la comunità e per i fruitori dei servizi che sono inseriti all'interno del partenariato. Vi ho messo questa slide che fa riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato recente per mettermi in evidenza che a proposito delle centrali di committenza di CONSIP che prima citavo, il Consiglio di Stato ha detto che il ricorso al partenariato può giustificare anche il fatto di non aderire alle convenzioni CONSIP. Quindi nonostante CONSIP abbiamo fatto delle gare per dei servizi che quindi possono essere attivati dai comuni, i comuni possono scegliere, in questo caso era un ASL che affidava la concessione per servizi di gestione energetica, di efficientamento e manutenzione di un ospedale. Quindi quest'ASL ha fatto la scelta di non aderire ad una convenzione CONSIP che già era attiva e che poteva essere attivata per fare questa tipologia di concessione e ha fatto una propria gara autonoma, quindi con un partenariato e quindi derogando all'adesione a CONSIP. Il soggetto che aveva vinto la gara CONSIP ha fatto ricorso a questa scelta dell'ASL ma il Consiglio di Stato ha dato ragione all'ASL che ha dimostrato la maggior convenienza del partenariato pubblico privato rispetto alla convenzione CONSIP. Allora come dicevo prima quindi il partenariato pubblico privato è un quindi comprende quindi fa riferimento ad una cooperazione tra sistema pubblico e privato ma comprende una pluralità di strumenti giuridici che possono essere utilizzati per definire il partenariato e quali sono la concessione quindi che dicevamo prima di lavori e di servizi che può essere attivata anche sotto forma di partenariato, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, partenariato sociale, sono tanti poi accenniamo alcuni di questi strumenti per dirvi quindi questo per farvi vedere quanti sono gli schemi negoziali che possono entrare sotto questo grande cappello. Oltretutto la norma all'interno del codice oltre ad elencare questi dice anche altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti del partenariato e siano diretti a realizzare interessi notevoli di tutela, meritevoli di tutela. Quindi possono rientrare sotto questo cappello anche altri strumenti non tassativamente elencati dal codice degli appalti ma che abbiano le caratteristiche del partenariato come previsto dalle normative. Per esempio un altro strumento di partenariato pubblico privato non citato del codice che vi ho riportato in questo elenco è la valorizzazione economica pluriennale degli immobili pubblici. C'è una disposizione, l'articolo 3 bis del DL 351 del 2001 che prevede la possibilità di concedere fino a 50 anni degli immobili di proprietà pubblica per una loro recupero, restauro e ristrutturazione di uno sfruttamento economico non sono citati nel codice ma sono un altro esempio di partenariato pubblico privato che trova fonte normativa in un'altra legge che però se ha le caratteristiche del partenariato rientra in questa categoria di contratti. Per quanto riguarda le opere che possono entrare dentro il partenariato pubblico privato ne possiamo distinguere di tre tipi, vengono così definite. Le opere calde sono quelle opere che hanno un'intrinseca capacità di generare flussi di cassa attraverso i ricavi dalle utenze e che quindi questi ricavi sono in grado di coprire i costi di investimento che sono fatti e quindi rimunerare adeguatamente il capitale investito. L'esempio è quello dei parcheggi. La gestione dei parcheggi è una gestione ad alta redditività e quindi può essere considerata un'opera calda perché la redditività che produce la gestione dei parcheggi consente di coprire costi di realizzazione o anche di riqualificazione dei parcheggi e anche rimunerare il capitale investito dal privato. Le opere fredde sono quelle appunto se quelle calde hanno una redditività molto elevata, le opere fredde sono quelle che hanno una redditività molto bassa e sono quelle ovviamente in cui il comune deve, il comune o comunque la pubblica amministrazione deve intervenire con un proprio contributo perché sennò l'operazione non sarebbe diciamo sostenibile da sola soltanto riscuotendo le tariffe dalle utenze. Le opere tiepidi sono quelle che pur avendo la capacità di generare reddito non producono ricavi tali da ripagare completamente gli investimenti. Quindi le opere calde sono le uniche che si, tra virgolette, sono quelle che si ripagano da sole e che addirittura potrebbero comportare per il comune un canone in entrata. Le fredde e le tiepide sono quelle che richiedono un intervento dell'amministrazione. Ovviamente più le opere sono calde più i rischi dovrebbero gravare di più sul privato perché se c'è un'alta redditività il rischio se lo deve assumere il privato e quindi gestirla in forma più imprenditoriale. Se invece, quando invece le opere sono tiepide o fredde, i rischi gravano di più sulla pubblica amministrazione. C'è poi un'altra tipologia, quindi tutti questi partenariati che vengono svolti con soggetti privati e che portano a stipolo di un contratto di partenariato vengono definiti come partenariato pubblico-privato contrattuale. C'è un altro tipo di partenariato che viene definito istituzionale ed è quello che si realizza quando il pubblico e il privato costituiscono un terzo soggetto, quindi un soggetto terzo partecipato, che ha quindi nelle proprie quote di partecipazione sia la parte pubblica che quella privata ed è una tipologia di partenariato che è disciplinato dal testo unico in materia di società partecipate. Quindi quando il partenariato è istituzionale è perché viene creato un soggetto, un altro ente partecipato sia dal pubblico che dal privato. Ve lo accenno insomma senza soffermarmi. Quindi all'interno del partenariato pubblico-privato troviamo il project financing o finanza di progetto. Il project financing quindi è una tipologia di partenariato, quindi il partenariato può svilupparsi attraverso la forma della finanza di progetto. Che cosa si intende nel caso del project financing? Cioè si intende il finanziamento di un progetto, quindi qui parliamo di finanziamento, quindi il soggetto che entra nel project è un soggetto anche che finanzia direttamente, di un progetto che in grado di generale nella fase di gestione flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale investito. Quindi qui abbiamo una progettualità che è finalizzata sia a remunerare il capitale di rischio ma anche a restituire un debito che è stato contratto e che è collegato alla realizzazione di quel progetto, di quell'opera o di quel servizio. Quindi il project financing è una modalità di finanziamento strutturato, cioè un finanziamento che viene progettato e attivato su misura di quello specifico progetto e che viene utilizzato per finanziare progetti infrastrutturali nelle operazioni di partenariato. Quindi all'interno della categoria del partenariato troviamo vari strumenti, la concessione, la finanza, quindi il project financing, il contratto disponibilità, l'allocazione finanziaria, tante tipologie di strumenti e quindi vediamo rispetto a diciamo gli schemettini che vi avevo fatto vedere prima dell'appalto e della concessione, nell'appalto i soggetti erano due, pubblica amministrazione e fornitore, nella concessione i soggetti iniziano ad ampliarsi perché c'è la pubblica amministrazione, il concessionario, gli utenti finali dei servizi, nel caso della finanza di progetto i partner e i soggetti convolti si ampliano ulteriormente perché abbiamo ovviamente da una parte la pubblica amministrazione che attraverso la finanza di progetto può garantire la realizzazione e la gestione di un'opera o di un servizio sul proprio territorio. Quindi questa richiesta viene realizzata da dei partner che vengono definiti nella finanza di progetto partner strategici, quindi non sono meri fornitori ma partner strategici della pubblica amministrazione che sono composti da n soggetti, quindi io ne ho riassunti tre, quindi in genere c'è il soggetto privato che realizza il bene, quindi se c'è da realizzare un'opera ci sarà la ditta che esegue i lavori, quindi che realizza proprio l'opera, il soggetto che gestisce bene, quindi che potrebbe essere diverso dal soggetto che ha realizzato l'opera, anzi spesso e volentieri sono due soggetti diversi perché un conto sono le competenze ovviamente per realizzare un'opera pubblica, un conto sono le competenze per gestire quell'opera, facciamo l'esempio di un impianto sportivo, di una piscina, quindi una finanza di progetto collegata alla realizzazione di un nuovo impianto natatorio sul territorio comunale, quindi la società che realizza l'impianto deve avere delle specifiche competenze sulla progettazione e realizzazione della piscina, quindi dell'impianto sportivo, il soggetto che la gestisce deve averne altre competenze perché poi una volta realizzata la piscina il soggetto gestore la gestirà per vent'anni, quindi il soggetto gestore sarà diverso dal soggetto che l'ha realizzata, ovviamente questi soggetti si mettono insieme perché chi progetta e costruisce deve essere in accordo con chi poi gestisce perché spesso e volentieri le esigenze gestionali implicano di tener conto di alcuni aspetti in fase di progettazione dell'opera e poi ci sono i soggetti che finanziano il bene, quindi c'è una banca, un soggetto che la finanza, ma anche eventuali altri soci che finanziano il progetto, quindi gli interlocutori si ampliano tantissimo e ovviamente anche nella formula finanza di progetto ci sono i fruitori dei servizi che vengono erogati. Qual è la caratteristica, come si caratterizza la procedura di affinamento nella finanza di progetto, qual è la peculiarità? Gli operatori economici quindi presentano ai comuni delle proposte relative alla realizzazione di lavori e di servizi. La proposta che viene fatta all'amministrazione deve contenere un progetto di fattibilità dell'opera e poi di gestione del servizio, una bozza di convenzione, cioè dell'atto che andrà a disciplinare i rapporti tra il comune e il soggetto privato, il piano economico finanziario della gestione che deve essere assiverato da una banca e poi la specificazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio e della gestione. Mi ho messo in rosso questo elemento, cioè vedete come prima nel caso dell'appalto e della concessione era il comune che faceva l'analisi dei bisogni e che scriveva tutti gli atti propedeutici allo svolgimento della gara e all'individuazione del soggetto appaltatore o concessionario. Nel caso della finanza di progetto la procedura è proprio rovesciata, quindi l'analisi del fabbisogno di quell'opera e di quel servizio e anche l'analisi delle esigenze delle utenze non è più un'analisi che fa l'amministrazione, è un'analisi ed una valutazione che fa il privato che quindi sostanzialmente entra nel merito della valutazione dell'interesse pubblico di quell'opera. È il privato che entra nel procedimento di valutazione dell'interesse pubblico di un'opera o di un servizio. Ovviamente lo propone l'amministrazione che poi lo valuta, però il processo è completamente rovesciato, non è più l'amministrazione che parte perché ha un bisogno e quindi si rivolge al mercato. È il mercato che bussa alla porta dell'amministrazione comunale e dice abbiamo rilevato questa opportunità, questa potenzialità per il vostro territorio, siete interessati. Quindi tutti i documenti che vanno nella gara non vengono scritti dall'amministrazione comunale ma dal soggetto privato. Il privato predispone tutti i documenti propedeutici a definire il partenariato. Ovviamente la proposta nell'ambito della finanza di progetto può poi prevedere una delle formule che abbiamo visto, cioè il partenariato e la finanza di progetto si può sviluppare poi attraverso una concessione di lavori e servizi, attraverso una locazione finanziaria, un contratto di disponibilità. Quindi gli strumenti giuridici attraverso i quali la proposta si sviluppa possono essere vari. Ovviamente se è il privato a proporre un'opera, quell'opera non è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi il comune non aveva individuato quel bisogno, non l'aveva inserito nel proprio programma triennale. Il nuovo codice degli appalti prevede che il comune quando inserisce un'esigenza di opera o di servizio nel programma triennale può anche essere so stesso promotore, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative di partenariato, di finanza, di progetto per la realizzazione di quell'opera. Quindi il passaggio che si è fatto con il nuovo codice è che il comune può anche inserire delle opere e dei servizi all'interno dei propri programmi triennali di opere pubbliche di beni e servizi e poi di proporre al privato di farsi avanti per realizzare mediante il partenariato quell'opera o quel servizio. Nella pratica, quindi operativamente, cosa succede? Che prima di depositare formalmente la proposta spesso si staura un dialogo e un rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti promotori che è spesso anche molto lunga perché ovviamente prima di depositare la proposta non può non esserci un confronto con la politica e con gli uffici tecnici per capire quanto quella proposta possa essere idonea e quindi c'è un confronto e spesso può essere anche lungo mesi perché ovviamente parliamo di partenariati, di contratti molto molto complessi. Quindi dicevo la proposta che fa il promotore, i promotori non è inserita nel piano triennale e però il ricorso al partenariato implica che l'amministrazione proprio perché magari quell'opera o quel servizio non l'aveva analizzato, non l'aveva rilevato e non era come dire sorta ancora l'esigenza di esternalizzarlo, ha l'obbligo di fare una valutazione preliminare di convenienza e di fattibilità sia relativa all'idoneità di quel progetto ad essere finanziato con risorse private. Le condizioni per ottimizzare il rapporto costi-benefici, l'efficiente allocazione dei rischi, la capacità di questo progetto di generare soluzioni innovative. Sostanzialmente quando il comune riceve una proposta di partenariato e di finanza di progetto la prima cosa che deve fare è ma se io questo progetto lo realizzassi in maniera tradizionale mi conviene il partenariato o mi conviene realizzare questa progettualità in maniera tradizionale quindi attraverso un appalto oppure attraverso una concessione di costruzione e gestione quindi proprio perché la proposta viene dall'esterno implica una grande attenzione e l'obbligo da parte dell'amministrazione di fare questa valutazione di convenienza che è molto complessa, molto complessa. Quali sono gli elementi fondanti, i pilastri delle proposte nella finanza di progetto? La matrice dei rischi e il piano economico finanziario cioè siamo all'interno di un partenariato pubblico-privato e quindi non siamo nell'ambito di un appalto o di una concessione se e solo se c'è un'allocazione dei rischi che è principalmente a carico del privato. Quindi oltre a quei documenti che vi facevo vedere che il privato propone all'amministrazione, la bozza di convenzione, il piano economico finanziario, il progetto di fattibilità, il promotore deposita anche la matrice dei rischi. Cos'è la matrice dei rischi? È uno schema, è molto schematica, nella quale sostanzialmente si elencono tutti i rischi che caratterizzano quel partenariato e chi si fa carico di quel rischio. Quindi la matrice è un lavoro nel quale sono riassunti tutti i rischi che il privato ha individuato in quell'operazione di partenariato, quali sono i rischi che si accolla lui, quali sono i rischi che chiede all'amministrazione pubblica di accollarsi. La regola sarebbe che il rischio venga allocato alla parte che è in grado di sostenerlo a costi minori. I rischi sono sostanzialmente riconducibili a questi ritri. Il rischio di costruzione dell'opera, cos'è? Il rischio di costruzione è che ci siano dei ritardi nel cronoprogramma dei lavori, che ci siano degli errori in fase di progettazione, che ci siano dei ritardi nella concessione o nel funzionamento dell'opera. Quindi questo è il rischio di costruzione dell'opera. Il rischio di domanda è che non ci sia, una volta che l'opera è realizzata, il servizio viene attivato. Facciamo sempre l'esempio della piscina. Quindi il rischio di costruzione è che la piscina venga costruita nei tempi, la progettazione sia corretta, non ci siano degli errori, eccetera. Il rischio di domanda è che non ci siano utenti sufficienti a garantire quei flussi di cassa che il privato aveva stimato per quell'opera. Quindi il rischio è che non ci sia un'utenza o che la concorrenza, e quindi ci sia una piscina nel comune vicino che fa una concorrenza tale per cui non ci sono dei flussi in entrata rispetto a quelli sperati. Quindi questo è il rischio di domanda. Il rischio di disponibilità è collegato al fatto che l'opera sia mantenuta, quindi sia funzionante, che non ci sia l'esigenza di chiudere quella struttura per molto tempo perché occorre fare degli interventi di manutenzione straordinaria e importanti, magari legati a degli errori di progettazione. Quindi il rischio di disponibilità è che quel bene, quel servizio sia disponibile per i fruitori. Si dice che siamo nell'ambito di un partenariato pubblico-privato e non nell'appalto, nella concessione, se almeno due di questi rischi sono a carico del soggetto privato. Quindi la matrice dei rischi è parte integrante del contratto di partenariato e è un documento delicatissimo perché se si sbaglia a individuare, ad allocare i rischi, questo può avere delle ripercussioni sui bilanci comunali per il futuro molto dolenti. Un'altra cosa importante è che non solo la matrice dei rischi sia completa in termini di rischi individuati e di chi si assume il rischio, ma che poi ci sia coerenza tra i rischi che si è accollato il privato e la pubblica amministrazione e le clausole che sono scritte nel contratto. Quindi è una cosa davvero molto complessa e che richiede grande attenzione perché se si sbaglia nell'individuare e allocare i rischi, ripeto, poi le conseguenze sui bilanci comunali possono essere importanti. L'altro elemento, l'altro pilastro del partenariato della finanza di progetto, è l'equilibrio economico-finanziario. Dicevo, il privato oltre a consegnare una bozza di convenzione, consegna il piano economico-finanziario, da cui devono emergere due elementi fondamentali. La convenienza economica di questa progettualità, cioè il progetto deve garantire una redditività adeguata rispetto al capitale che è stato investito dal privato. Quindi ci deve essere la redditività che garantisce il privato da recupero del capitale che ha investito. E poi la sostenibilità finanziaria, cioè la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti anche a rimborsare il finanziamento che è stato attivato per realizzare quell'opera. Come dicevo prima, anche nel caso del partenariato, per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario le amministrazioni possono prevedere in favore del privato un contributo pubblico. E attenzione, il contributo pubblico non è detto che sia solo risorse finanziarie, quindi un contributo che in genere viene dato ad attivazione del partenariato, quindi risorse proprio finanziarie, ma può essere anche per esempio di tipo immobiliare, mettere a disposizione l'area pubblica su cui viene realizzata l'opera gratuitamente, oppure trasferire la proprietà dell'area su cui viene realizzata l'opera o il diritto di superficie, eccetera, eccetera. Ma anche garanzie pubbliche, quindi la pubblica amministrazione potrebbe dare un contributo anche in termini di garanzie rispetto al rapporto che viene definito. Una volta che il progetto viene depositato, ufficialmente il comune deve valutarlo entro 90 giorni, può chiedere eventualmente al promotore di apportare delle modifiche al progetto che ha depositato, ovviamente anche se la proposta viene dall'esterno il comune può chiedere di modificarla, se il promotore non la modifica la proposta si tende respinta, se invece viene adeguata il comune conclude il procedimento con un provvedimento in cui dichiara la pubblica utilità del progetto, che quindi lo acquisisce, cioè sostanzialmente dice ok questa progettualità mi interessa, faccio una gara per affidarla, perché comunque viene fatta una gara di evidenza pubblica. Qui vi ho riassunto le competenze, l'aggiunta comunale sostanzialmente definisce, quindi valuta l'interesse pubblico sotteso al progetto che è stato presentato e quindi con delibera fa una proposta, quindi propone una modifica del programma triennale dei lavori pubblici, è la fase della proposta. Il consiglio comunale che è competente ad approvare il DUP o la nota di aggiornamento al DUP e quindi ad approvare anche il programma triennale dei lavori pubblici e quindi il progetto preliminare, il dirigente competente è quello che poi è responsabile della gara che deve essere svolta e della stipula del contratto di partenariato. Il progetto di fattibilità che ha depositato il promotore, dei promotori è quello che viene messo a base di gara. La gara non si svolge a ribasso, ma è una gara che viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Cosa significa? Che se vengono attribuiti, la valutazione dell'offerta prevede 100 punti, bisogna stabilire quali sono i punti che vengono attribuiti a quell'offerta in relazione alla qualità dell'opera, dei servizi, quindi parametri qualitativi e migliorativi dell'offerta che è stata depositata dal promotore e una parte minore invece collegata all'aspetto economico. In genere il rapporto è il 70% dei punti va alla qualità, il 30% all'aspetto economico. Quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella che prevede l'aggiudicazione non solo in base al prezzo. Nel bando deve essere specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione e questo è il grande vantaggio per il privato di questa tipologia di affidamento, cioè che nel momento in cui il promotore deposita il progetto e il comune fa la gara, lui acquisisce un diritto, cioè il diritto di essere aggiudicatario di quel contratto e quindi il diritto di prelazione. Diciamo che l'aggiudicazione è quasi sicura, salvo che ovviamente in sede di gara arrivi un altro soggetto che fa una proposta che per il promotore è inaccessibile, ma è difficile. In genere chi fa la proposta all'amministrazione ha un'altra probabilità di essere l'aggiudicatario poi della gara ad evidenza pubblica. Ovviamente i concorrenti, compreso il promotore, devono avere requisiti e fanno la loro offerta, che in genere deve essere migliorativa rispetto a quella andata in gara. Quali sono le ipotesi quando si svolge la gara? Che il promotore vinca, cioè che il promotore presenti l'offerta migliore, ok, si va avanti, si aggiudica, il contratto viene stipulato, che vince un altro soggetto, che fa un'offerta strepitosa e rispetto alla quale però il promotore non esercita il diritto di prelazione, l'opzione 3, anticipo quella. Quindi vince un altro soggetto e il promotore decide di non esercitare il diritto di prelazione. In quel caso però ha diritto al pagamento da parte di chi vince la gara delle spese per la predisposizione della proposta. Se invece vince un altro soggetto e il promotore esercita il diritto di prelazione, l'originario vincitore ha diritto al pagamento delle spese per la predisposizione dell'offerta. Quindi queste sono le opzioni. Vince il promotore, non vince ma esercita il diritto, quindi comunque il giudicatario, non vince e decise di non esercitare il diritto ma ha diritto ad un rimborso delle spese da parte dell'aggiudicatario. Ovviamente chi vince poi sviluppa la progettazione, i livelli di progettazione successiva, perché abbiamo visto in gara va solo un progetto di fattibilità dell'opera del servizio, chi poi è giudicatario della gara sviluppa i successivi livelli di progettazione e poi realizza l'opera. Quando gli affidamenti di finanza di progetto sono superiori alle soglie comunitari che vi facevo vedere prima, quindi abbiamo visto per le concessioni e per i lavori sopra 5 milioni di euro o per i servizi e fornituri 215 o 750 se si tratta di servizi sociali, ci deve essere l'obbligo nel bando di gara di costituzione di una società di scopo. Quindi tutti i soggetti che fanno parte del partenariato, che sono promotori o che partecipano alla gara, devono costituire una società per azione o a responsabilità limitata. Poi il bando di gara deve anche indicare l'ammontare minimo del capitale di questa società, in che quota di partecipazione possono stare diversi soggetti eccetera eccetera. A quel punto è la società di scopo che viene costituita e nella quale partecipano tutti i soggetti che hanno contribuito all'elaborazione della proposta, è sostanzialmente la controparte della pubblica amministrazione. Quindi non abbiamo più a che fare con tanti soggetti ma con una società in cui sono compresi ovviamente tutti i soggetti che hanno elaborato la proposta. La società di scopo, quindi sotto la soglia comunitaria, rimane comunque una facoltà che nel partenariato deve essere prevista. Quindi anche se siamo sotto soglia i promotori possono costituirla. Il contratto di concessione poi deve anche stabilire le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società. I soci che comunque hanno partecipato all'elaborazione della proposta devono far parte, quindi devono partecipare, sono obbligati a partecipare alla società per garantire il buon andamento del contratto. Mentre può essere previsto l'ingresso nel capitale della società di scopo o l'uscita anche di soggetti che non hanno partecipato, non hanno concorso a formare requisiti per la qualificazione, quindi i soggetti che non sono stati determinati per poter partecipare alla gara possono entrare e uscire dalla società di scopo. Vado avanti perché se no ovviamente poi la società di scopo è quella che può emettere obbligazioni e titoli di debito per finanziare la progettualità. Ecco la finanza di progetto, quindi si crea una società di scopo, questa società deve essere partecipata da tutti i soggetti che hanno elaborato la proposta e che hanno i requisiti, quindi che garantiscono i requisiti richiesti in sede di gara. Questa società può emettere obbligazioni e titoli di debito per raccogliere ulteriori risorse e quindi individuare ulteriori soggetti che finanziano la progettualità. L'offerta deve contenere il grado di rischio associato a questa operazione. Allora, come dicevo prima, quindi questa è la modalità della finanza di progetto e come si affida. Quindi abbiamo visto che nel caso della finanza di progetto è il privato che propone all'amministrazione comunale. Poi il partenariato può essere sviluppato sotto forma di concessione e abbiamo già visto come si caratterizza la concessione, quindi realizzo un'opera, poi erogo un servizio, ho degli utenti finali e quindi la maggior parte dei ricavi della gestione provengono dallo sfruttamento dell'opera o del servizio e il rischio operativo è a carico del concessionario. Quindi la finanza di progetto si può poi articolare, sviluppare sotto forma di concessione. Oppure il partenariato, quindi la finanza di progetto, può svilupparsi sotto forma di contratto di locazione finanziaria. Qual è la peculiarità del contratto di locazione finanziaria o leasing incostruendo? Qui abbiamo una società di locazione finanziaria, quindi una banca, che acquista da un operatore economico e quindi un altro soggetto privato un bene esistente oppure affida a quest'operatore la realizzazione di questo bene e poi lo cede in godimento all'amministrazione, quindi mette a disposizione dell'amministrazione questo bene e il comune paga un canone periodico fisso comprensivo, quindi variabile fisso, comprensivo di tutti i servizi che la società di locazione finanziaria mette a disposizione. Anche la locazione finanziaria è un partenariato se ovviamente il trasferimento del rischio operativo è fatto sul privato, ma può essere un appalto pubblico di lavori con anche finanziamento dell'opera se invece il rischio è a carico della pubblica amministrazione. Quindi vedete come essere dentro il partenariato o essere fuori e quindi da una locazione o una concessione eccetera, l'elemento fondamentale è il rischio. Se il rischio se lo assume principalmente il pubblico siamo nel modello tradizionale, non siamo in un partenariato. Per essere nel partenariato bisogna che il rischio sia di più sul privato e quindi poi con questi vari strumenti. Nel caso della locazione ovviamente può essere anche previsto che il comune riscatti l'opera. Facciamo sempre l'esempio della piscina, quindi l'amministrazione, quindi la proposta che arriva all'amministrazione è quella di una realizzazione di una piscina, è una società di locazione finanziaria che propone un leasing costruendo, quindi una banca, quindi la banca si associa con una società che progetta e realizza impianti natatori, quindi propongono insieme di finanziare l'opera molto costosa, di realizzarla e poi di gestirla per X anni. A fronte della realizzazione, quindi nel momento in cui l'opera è realizzata è collaudata, il comune inizia a pagare i canoni perché la piscina è aperta e il servizio viene erogato, dopo X anni il comune potrebbe riscattare, quindi quell'opera di fatto è un'opera privata se il comune non la riscatta, quindi è un'opera di interesse pubblico ma non pubblica che consente l'erogazione dei servizi sportivi alla cittadinanza, se il comune non la riscatta rimane della società, se invece il comune la riscatta diventa poi pubblica, quindi è qualificata come pubblica l'opera se è previsto il riscatto, quindi questa è la formula dell'erogazione finanziaria. L'altra formula che può essere utilizzata è il contratto di disponibilità, quindi qui non abbiamo una società di locazione finanziaria, ma abbiamo un operatore economico che si obbliga a mettere a disposizione del comune un'opera, quindi anche qui magari è un soggetto economico proprietario di una piscina già realizzata, pronta e funzionata, la mette a disposizione del comune, quindi viene definito un rapporto in cui si stabiliscono, ci si mette d'accordo sulle tariffe, sugli impegni che l'operatore economico si assume, quindi l'operatore economico garantisce che quella piscina è funzionante, aperta, funziona con una serie di tariffe, di aspetti di caratteristiche eccetera, anche nel contratto di disponibilità si può prevedere, è una sorta di affitto, è più dell'affitto perché in un contratto di affitto il comune pagherebbe solo l'involucro. Semona, tu hai in mente ancora quanto hai? Allora, sono le sette e un quarto, se no rischiamo che poi le persone… Vado più veloce, ok va bene, cerco di fare più finiti. Quindi vado avanti, altra forma di partenariato sono i contratti energetici, cioè quelli nei quali i ricavi di gestione dell'operatore economico sono legati a interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici, anche questi sono partenariati che stanno partendo tantissimo dalle pubbliche amministrazioni, quindi sono società che propongono di efficientare gli immobili a fronte del pagamento di un canone da parte del comune che si intestano tutte le bollette e le utenze e che quindi ritengono di ricavare dal partenariato un profitto collegandolo all'efficientamento degli immobili pubblici. Quali sono i soggetti, le autorità che sono competenti e che promuovono la diffusione dei partenariati e la finanza dei progetti? Abbiamo il Dipe che è il Dipartimento per la Programmazione Economica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regioneria Generale dello Stato, il Dipe è anche quello che monitora l'impatto sul deficit e sul debito pubblico dell'operazione di partenariato che vengono attivate dalla pubblica amministrazione. Dipe ha stipulato anche un protocollo d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti che quindi è stata anch'essa inserita in questo lavoro di promozione di queste tipologie di strumenti, soprattutto per quanto riguarda la redazione di manuali operativi, manuali divulgativi, iniziative formative. L'ISTAT è quella che classifica queste operazioni di partenariato se sono effettivamente operazioni in cui non c'è nuovo debito a carico della pubblica amministrazione o meno, quindi classifica i partenariati, si dice on balance o off balance, ora vediamo un'altra slide, e poi c'è l'ANAC che è l'Autorità Nazionale Anticorruzione che elabora le linee guida e che fa anche una valutazione dei partenariati. Qui vi ho messo nelle slide il numero di Dipe è diventato un punto di riferimento per le amministrazioni che provano a barcamenarsi nel mondo del partenariato e della finanza di progetto, come vedete negli anni 2021-2022 la richiesta di parere e di supporto sta crescendo, anche se i numeri non sono molto alti, perché ovviamente sono contratti molto complessi, non tutte le pubbliche amministrazioni hanno competenze e capacità per approcciare a questi strumenti, però i numeri sono in crescita. Nella relazione del Dipe si vedono quali sono le regioni che hanno chiesto un supporto nei partenariati, quindi sono Regione Lazio, Lombardia e Piemonte, e attualmente il Dipe ha anche strutturato un sito web dove se siete interessati ad approfondire argomento potete navigare e trovare anche tantissimi documenti. Attualmente su Dipe sono presenti 174 contratti tra finanza di progetto, concessioni di costruzione e gestione, concessioni di servizi per un valore totale di 11,5 miliardi. Le amministrazioni che sono registrate sono 281 e i progetti che caratterizzano questa modalità riguardano soprattutto la pubblica illuminazione, quindi vi dicevo prima i contratti energetici, strutture scolastiche, sanitarie, quindi la realizzazione di nuovi ospedali, impianti sportivi, edifici pubblici e servizi cimiteriali. Il 70% di questi contratti è fatto mediante finanza di progetto. Vi dicevo, questi strumenti, questi partenariati sono on balance, che significa quando il rischio rimane più a carico del pubblico e non a carico del privato, si considerano indebitamento pubblico. Sono off invece quando effettivamente i rischi sono collocati sul privato all'esterno e quindi possono essere considerate operazioni che non comportano un aumento del debito pubblico. Qui c'è una torta dove si vede che i partenariati che ha analizzato il Dipe per l'88% sono contratti on balance, cioè sono contratti in cui prevale il rischio a carico della pubblica amministrazione e non del privato, solo il 12% sono considerati off, cioè non incidono sul debito pubblico perché il rischio è più sul soggetto privato. Qui ci sono altri dati ma vado avanti, qui si vede che la maggior parte dei partenariati sono stipulati da ASL e comuni, quindi sono gli enti pubblici che ricorrono di più a questo strumento. Ultime slide sui vantaggi e gli svantaggi. In letteratura si dice che i vantaggi dei partenariati e della finanza di progetto sono quello di reperire ingenti risorse private per realizzare opere pubbliche molto costose e quindi anche per il PNRR molto spinto. I tempi di realizzazione sono più rapidi ma tutto da vedere perché spesso invece i tempi propedeutici allo svolgimento della gara sono molto lunghi anche nel partenariato perché sono contratti complessi, il trasferimento dei rischi sul privato però quando siamo in grado di farlo, invece i dati ci dicono che nella maggior parte dei casi i rischi rimangono sulla pubblica amministrazione, una maggiore qualità delle opere, un affinamento delle capacità di valutazione dei progetti. In realtà il grafico sotto ci dice che la cosa più appetibile del partenariato e della finanza di progetto è che la spesa non rileva sul bilancio pubblico e quindi non crea il nuovo debito e quindi questo è uno strumento che è fortemente funzionale a garantire il rispetto di vincoli di finanza pubblica. Criticità, aggiungo criticità della finanza di progetto ma spesso queste criticità riguardano l'esternalizzazione in generale. Lo dicevo prima, tutti gli atti di partenariato e di finanza di progetto non nascono da un bisogno dell'amministrazione, da un'analisi che l'amministrazione fa del pubblico interesse e dei bisogni di soddisfare, ma un procedimento che nasce dal privato e nasce perché c'è un profitto dalla realizzazione e gestione di quelle opere. E soprattutto altra cosa, il privato elabora anche, c'è una esternalizzazione anche nell'elaborazione degli obblighi che poi quegli stessi operatori che scrivono gli obblighi dovranno rispettare. Quindi, e questo è un elemento. La corretta identificazione e allocazione dei rischi, l'ho detto anche prima, cioè i rischi devono essere correttamente identificati, correttamente collocati. Se non facciamo bene questa collocazione, i problemi sui bilanci dei comuni negli anni futuri possono essere veramente critici. Il partenariato costa di più di un affidamento tradizionale perché all'interno vengono considerati tutti i costi, progettazione, realizzazione, gestione, servizi assicurativi, servizi finanziari, cioè anche gli interessi che il privato paga per il finanziamento dell'ova, oltre all'utile di impresa. E soprattutto questi costi non sono fissi e bloccati, c'è il piano economico finanziario, come vi dicevo prima, e se non vengono bene disciplinate le clausole con cui questi costi si modificano nel tempo, questo può essere un rischio fortissimo, perché se non abbiamo disciplinato bene la revisione dei piani economico finanziari, come eventuali anche aumenti dei costi della gestione dei servizi si collocano sul pubblico o sul privato, le sorprese possono essere assolutamente negative. Un'analisi adeguata sulla convenienza complessiva del partenariato non è un'analisi assolutamente banale e il rischio è spesso di avere un'eccessiva fiducia nello strumento che non è assolutamente adatto a tutte le soluzioni. Se non è valutato adeguatamente il progetto rischia di fallire. Cosa succede in caso di fallimento del soggetto di gestore dell'opera o regatore del servizio? Abbiamo disciplinato bene anche questo aspetto perché può essere un altro elemento di grossa criticità durante la gestione del servizio. Altra criticità è la capacità della pubblica amministrazione di monitorare e controllare questi contratti complessi. Già è difficilissimo monitorare e controllare gli appalti e le concessioni, ancora più complicato monitorare e controllare questi contratti così complessi. Faccio notare una cosa, l'ANAC ci dice che ormai la corruzione o comunque la mala gestione delle risorse pubbliche non si concentra più nella fase di gara e quindi nell'affidamento degli appalti e concessioni dei partenariati, ma nella fase di esecuzione. Spesso è proprio nella fase di esecuzione del contratto che il privato prova a recuperare i ribassi economici che ha fatto in sede di gara o a ridimensionare le migliorie che aveva fatto in sede di gara. Quando si esternalizza, altro punto, quando si esternalizza il rischio è quello di esternalizzare competenze, conoscenze, informazioni e dati che l'ente invece dovrebbe detenere, perché parliamo di servizi pubblici che devono soddisfare i bisogni della comunità. Vi segnalo un libro molto interessante sul tema dell'esternalizzazione che tra l'altro racconta anche di partenariati molto grossi falliti, è di Mazzucato e Collington del 2023, che dice che per firmare un contratto con uno o più partner bastano pochi giorni, ma per ricostruire le capacità che vanno perse in questo processo i tempi sono ben più lunghi. Rischi legati al mancato finanziamento dell'opera da parte della banca dopo che si è giudicata la gara, la complessità del partenariato, i tempi elevati e incerti che intercorrono spesso tra il bando e la giudicazione, i rischi di contenzioso, il fatto di dover coordinare tanti soggetti e poi il rischio che si ricorre al partenariato solo per eludere i vincoli di finanza pubblica. I maggior margini che spesso il privato ha, perché quando il privato propone i documenti, il piano economico finanziario o la convenzione sa che bisogna passare dalla gara e quindi ovviamente formula la proposta lasciandosi dei margini per poi partecipare e fare dei ribassi. Il problema è se poi a queste gare, ritorno alla prima slide dove vi facevo vedere che spesso nelle gare gli operatori economici che partecipano non sono tanti, il rischio è che questi margini, se poi non c'è una gara in cui partecipano altri operatori, rimangono molto ampi e a beneficio del privato con una minore ottimizzazione dei costi che spesso con il partenariato ci si aspetta. E poi la simmetria informativa che spesso c'è tra pubblica amministrazione e privati a favore dei privati con un potere contrattuale ben più elevato. Chiudo e ho finito con una citazione che ho preso dalla relazione ANAC sempre del 2022 che mette in evidenza una cosa e questo riguarda i contratti pubblici in generale, ovviamente la finanza di progetto a maggior ragione. I contratti pubblici sono il luogo ideale di incontro tra il pubblico che manifesta un bisogno e il privato che lo aiuta a soddisfarlo. Esiste però un protagonista assoluto che spesso non viene adeguatamente considerato, il cittadino. Infatti il cittadino è beneficiario ultimo dei contratti ed è committente nella misura in cui ha pagato le imposte e ha finanziato quel contratto. Ed è lui che se le procedure non si svolgono correttamente riceve un danno. Quindi chiudo dicendo che sperando che nonostante la complessità del tema sia riuscita a trasferirvi un po' di informazioni su alcuni concetti è che è l'attenzione che bisogna porre in tutti i contratti pubblici a maggior ragione dei contratti di finanza, di progetto dove la complessità è più elevata, non dimenticarci che tra i contraenti del contratto di partenariato c'è anche il cittadino, le sue esigenze, i suoi bisogni. Scusate se sono stata lunga ma era complicato condensare anche questo tema molto complesso in poco tempo. Si può fare i complimenti? È stata bravissima. Mi sente? Sì, grazie. Spero sia stato chiaro perché mi rendo conto che vi ho detto tantissime informazioni in poco tempo. Quindi se c'è qualche dubbio, perplessità rispiego alcuni concetti. Comunque grazie. Mi associo ai complimenti. Già l'altra volta era stata bravissima, questa volta anche di più perché è anche più incasinata tutta la materia, mi sembra. Bella densa, bella spessa. Sì, confermo e ho semplificato tantissimo perché davvero è un tema molto molto complesso. Io vorrei sapere se la Simona Repole può fare un esempio di partenariato pubblico-privato che ha avuto successo. Allora, personalmente non ne conosco, nel senso che ho messo insieme informazioni e dati presi anche perché i partenariati, come avete visto, i dati che sono pubblicati sul sito del Dipe sono dati ancora molto limitati. Quindi ci sono ancora dati e informazioni molto limitate. Quindi non so raccontarvi una storia di successo perché purtroppo spesso e volentieri sono quelli che non hanno successo, che poi vengono alla ribalta. Quindi vi ho indicato quel sito perché può essere un contenitore nel quale magari individuare delle operazioni. Poi il problema è che il successo andrebbe valutato alla fine. Magari sono di successo i primi anni e poi dopo, come dire, essendo rapporti così lunghi la valutazione andrebbe fatta alla fine e quindi non ho mai letto o trovato informazioni che raccontino nel complesso le operazioni. Potrei fare una domanda. In Valle d'Aosta noi abbiamo un project financing, è stato realizzato un impianto per il trattamento dei rifiuti e c'è stato un solo gruppo di imprese che ha donato, così ci hanno detto i politici, il progetto di fattibilità alla regione. La regione ha fatto poi una gara europea, perché il contratto sono 140 milioni di euro per 17 anni e non si è presentato nessuno, cioè chi ha fatto il progetto l'ha donato e poi l'ha realizzato. Ed è un progetto che secondo me è molto vantaggioso perché per legge tutte le spese che riguardano la gestione dei rifiuti sono a carico degli utenti e quindi chi gestisce la gestione dei rifiuti è garantito che qualsiasi sia il prezzo lo pagano gli utenti ed è uno di quei contratti in cui l'amministrazione pubblica dice ma noi non spendiamo niente, siamo felici perché non spendiamo niente. E vorrei sapere se è normale che in un project financing così consistente di più di 140 milioni di euro e 17 anni di fornitura, di servizi, ci sia un unico partecipante alla gara. Purtroppo è quello che vi dicevo prima, i partenariati sono contratti atipici, cioè non esistono come dire contratti, i contratti più simili di partenariato sono quelli in ambito energetico perché quelli sono formule che sono applicabili anche a diverse realtà. Però ecco l'esempio che faceva lei è un contratto molto particolare, specifico e questo è il rischio, il rischio più grosso dei partenariati è che poi la gara sia veramente come dire un passaggio solo formale ma non sostanziale perché se la progettualità la scrive il privato e qui ritorno a quella asimmetria informativa che c'è tra pubblica amministrazione e privato il privato se lo scrive, cioè scrive tutti gli obblighi, definisce tutte le clausole contrattuali, il PEF quindi spesso è affatto un investimento, un lavoro tale per cui chi partecipa alla gara magari non ha il tempo di semplicemente ragionare, valutare, elaborare e quindi fare una controproposta. Quindi la cosa rischiosa del partenariato è proprio quella, che il privato scrive tutto, decide tutto poi ovviamente la pubblica amministrazione dovrebbe valutare ma quali strumenti ha, quali conoscenze, dati, informazioni ha per valutare fino in fondo la convenienza, poi lo mette a gara e non partecipa a nessuno purtroppo è una cosa molto frequente, è frequente negli appalti e nelle concessioni come vi facevo vedere all'inizio delle slide, figuriamoci in contratti così atipici e complessi per cui magari mentre il promotore ha avuto un anno per ragionare su quegli atti, sullo schema di convenzioni, flussi finanziari eccetera, chi partecipa ad una gara magari a un mese di tempo un qualsiasi altro operatore magari non è in grado di fare quelle valutazioni ed è scoraggiato a partecipare. Questo è il rischio di questi strumenti. Sì, una cosa che mi sono dimenticato. Scusa però Paolo, stai finendo. Sì, finisco. No, come sono altri che hanno richiesto interventi. Sì, sì, una cosa velocissima. Non vi ho detto che c'è l'obbligo, cioè praticamente il monopolio della gestione dei rifiuti è in capo a chi gestisce quest'impianto. Quindi lui è sicuro di avere tutti i rifiuti della Valle d'Aosta che passano di lì ed è sicuro di fare i guadagni perché saranno gli utenti a pagare e devono coprire tutti i costi. Allora, scusate, ci sarebbe Valentina che chiede un esempio di insuccesso. Poi c'è Daniela che si prenota per una domanda e poi mi sono prenotato anch'io per una domanda. Allora, l'esempio di insuccesso... Allora, a me viene appunto il libro che vi citavo prima della Mazzucato e della Collington del 2023. Io lo trovo molto interessante, ve lo consiglio nell'attura. Si chiama Il grande imbroglio. Fa anche una storia di questi contratti di partenariato soprattutto nel mondo anglosassone, quindi Inghilterra, Stati Uniti, Nord Europa e forse l'esempio di insuccesso più clamoroso del mondo riguarda la costruzione di un ospedale in Svezia, Stoccolma, che è stato fatto proprio con lo strumento del partenariato e che praticamente è stato realizzato e costruito con questa formula ed è costato cinque volte di più rispetto a quello che era la previsione originaria, un contratto complessissimo che è andato fuori controllo e fuori gestione da parte dell'amministrazione pubblica e racconta questo caso. Mi viene in mente questo. È un libro molto interessante che parla anche delle consulenze, delle esternalizzazioni e parla di come le esternalizzazioni portano ad una, lei dice, una infantilizzazione dello Stato perché perdiamo competenze e conoscenze e poi rischiamo anche di avere, come dire, delle conseguenze sulla finanza pubblica disastrose. Grazie Simona. Daniela fa una domanda. Intanto ringrazio veramente tanto di nuovo. Vediamo se ho capito bene. Allora, il privato fa la proposta alla giunta, la quale giunta fa la proposta al Consiglio Comunale che metterà nel documento di programmazione triennale. Ho capito bene. Quello è l'unico passaggio, se ho capito bene, in cui, diciamo, rappresentanza dei cittadini ha voce in capitolo, poi tutto il resto non lo vede più. Così come tra i vari soggetti che concorrono alla finanza di progetto non è prevista la cittadinanza. Quindi tutto lo sviluppo del progetto, dalla rilevazione del bisogno allo sviluppo sfugge completamente, non dico al controllo, ma perlomeno alla partecipazione pubblica. L'altra cosa che mi è sfuggita è questa. Ma se tutto il rischio, cioè se la finanza di progetto si valuta in ragione dell'allocazione dei rischi, com'è che il Comune tra le garanzie può mettere anche delle risorse? Mi sembra che nega il principio iniziale. Ecco, grazie. Petta Simona, che ti faccio anch'io la domanda che rientra in quello che stava dicendo anche Daniela. Molto brevemente, uno intanto io non parlerei di insuccessi ma sono truffe legalizzate perché dobbiamo dire poi cos'è nella pratica la finanza di progetto. Un esempio è la Brebemi, che è la cosiddetta superstrada Brescia-Bergamo-Milano, che non parte da Brescia, non passa da Bergamo e non arriva a Milano, nella quale le garanzie che il pubblico ha messo hanno comportato che siccome il progetto è fallimentare dal punto di vista della redditività è finito tutto a carico dello Stato, della regione e delle province. La domanda che si collega a quello che diceva Daniela è questa. Per legge c'è una soglia di contributo pubblico che non può essere superata dentro una finanza di progetto? Perché io so che nei primi progetti di finanza c'era una soglia che poi è stata derogata, poi è stata derogata e delle volte ci sono delle norme ad hoc, ripeto sulla Brebemi è successo questo, che hanno fatto norme ad hoc per derogare ulteriormente dalle deroghe precedenti. Quindi ti volevo chiedere ma attualmente sulla normativa il contributo pubblico che soglia non può superare? poi ci sono le deroghe. Certo, allora per quanto parto dalla partecipazione dei cittadini che chiedeva la persona che ha parlato prima di te. Sì, in effetti come dire, allora considerate che il codice dei contratti pubblici prevede all'articolo 40 è previsto il dibattito pubblico, cioè ci sono dei casi in cui, e ovviamente si parla di opere di incorto rilevante, cioè sono proprio delle casistiche che la legge ormai riconosce, c'è un obbligo di attivazione del dibattito pubblico nel caso di alcune opere. Quindi se si tratta di alcune opere di un certo valore, il dialogo con la cittadinanza va attivato, sia che si faccia con l'appalto, la concessione, il partenariato. Però al di fuori di questo obbligo, l'articolo 40, e questo può essere un elemento da socialicitare alle amministrazioni. Comunque può essere attivato, volevo provare, me l'ha rappuntato, ecco c'è la facoltà dell'ente di attivare un dibattito pubblico e quindi di chiamare in causa la cittadinanza, qualora la rivelevanza sociale dell'intervento, l'impatto ambientale sul territorio, siano tali da richiedere comunque un coinvolgimento della cittadinanza. Ma questo deve essere una cosa che attiva l'amministrazione. Se l'amministrazione non lo fa, in effetti è vero. È un tipo di procedura che parte dal privato, che vede in questa operazione la possibilità di avere un profitto e in cui la cittadinanza come può essere coinvolta. Se non lo fa l'amministrazione, quindi l'unico passaggio in effetti è quello in Consiglio Comunale, questi passaggi non ci sono. È l'amministrazione che si fa da soggetto mediatore tra i bisogni e le esigenze dei cittadini e il privato, con cui stipula il contratto. Però, ecco, data la rilevanza di queste opere e dei servizi erogati, questo è un passaggio che andrebbe colmato e che non c'è. Quindi, si diceva prima, l'aggiunta è l'organo che valuta la proposta e quindi dichiara l'interesse pubblico dell'opera e propone al Consiglio Comunale di inserire. Quindi il Consiglio Comunale cosa fa? Sostanzialmente dice ok, quell'opera viene inserita nel programma triennale dei lavori pubblici, riconosce, quindi acquisisce, fa propria quella proposta che proviene dal privato. Per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e il contributo pubblico, in realtà non sono in contrasto. Un conto è dire chi si assume il rischio di una certa operazione. Per esempio, il rischio che l'opera non sia stata progettata bene. Quello è un rischio che si deve assumere il privato se c'è un errore nella progettazione e quindi poi nella realizzazione, il comune non ci mette un euro. Però, altra cosa è il ritorno, per esempio, faccio l'esempio della piscina. La realizzazione della piscina è un'opera molto costosa, quindi anche perché poi tutte le norme tecniche ci sono, è un'operazione costosa e le tariffe che i fruitori della piscina pagano non sono sufficienti a ripagare tutto l'investimento e la realizzazione dell'opera. Allora, in quel caso il comune riconosce al privato un contributo pubblico. Ovviamente questo contributo va calcolato, va valutato, perché quel contributo sarà dentro il piano economico-finanziario complessivo della gestione e il riconoscimento di quel contributo garantisce che comunque tutta la gestione è in equilibrio per tutta la durata del contratto. Quindi il contributo viene dato non perché c'è un rischio, il contributo viene dato perché garantisce un equilibrio economico-finanziario della gestione per tutta la durata del contratto. Il rischio invece è un'altra cosa, succede un evento che comporta una spesa. Chi copre quella spesa? Quindi il contributo non è che entra in gioco perché c'è un rischio che è coperto dal pubblico, il contributo è una valutazione che viene fatta quando dalla tipologia di contratto emerge il fatto che la tariffa non è sufficiente a garantire l'equilibrio della gestione. Non so se mi sono spiegata. Per quanto riguarda il limite di contribuzione pubblica che chiedeva Marco, allora nel codice precedente c'era un limite ben preciso, cioè il contributo pubblico poteva arrivare al massimo al 49% del valore di tutta l'opera. Dal nuovo codice dei contratti sembra che questo limite sia venuto meno. C'è un po' da capire, perché poi il nostro legislatore è molto, magari con il codice non è stato inserito e tra tre mesi arriva una norma che stabilisce questo limite. A me pare che per ora questo limite non sia previsto, però ecco da verificare. Fino a giugno 2023 sono sicura il limite era il 49%. Grazie Simona. Allora ci sono Stefano Risso e poi c'è Bruna. Se ci sono altri che vogliono fare domande ditelo adesso che così poi sappiamo come chiudere perché sono le 19.44. Comunque la percentuale del 18% sull'off balance, si riferisce al numero dei contratti o al valore complessivo delle opere? E se di tutto... No, al numero di contratti. Ah, il numero di contratti. E in termini di valore c'è qualche idea? Allora, no, in termini di valore c'era praticamente... Scusa, mi è sfuggita. Eh, no, 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 infatti aspetta, provo ad andare a ritrovarlo. Allora, qui era per numero. No, no, c'era anche il valore. Allora, l'88% sono on balance, quindi praticamente sono debito e il rischio è sul pubblico e sono 11 miliardi, ok? Il valore di questi partenariati. Quelli invece che sono effettivamente off balance, cioè non creano debito perché effettivamente il rischio sul privato sono il 12% e pesano per 450 milioni. Quindi di fatto i partenariati che servirebbero a spostare il rischio sul privato continuano invece ad essere strutturati con i rischi che sono a carico del pubblico. Grazie, Bruna. Sì, subito. Io lancierei una proposta, richiesta proposta. Sono stati incontri interessantissimi. Il tempo, lo spazio per porre delle questioni, osservazioni è stringato. Non sarebbe opportuno organizzare un incontro di riflessione su tutto il corso e dare spazio ai partecipanti anche con delle osservazioni, proposte, eccetera. Ora vengo alla mia richiesta, cioè ho già detto questa richiesta proposta, però ho altro. Rappresento un'associazione di tutela diritti dei malati. Per quanto riguarda l'esternalizzazione ho esperienza, nel senso che sono stati affidati dei servizi a delle cooperative o addirittura anche delle multinazionali. Il progetto iniziale, proprio per evitare ricorsi, altari e quant'altro, si attengono fedelmente a quello che è stabilito. Poi cosa succede? Nel corso della realizzazione, tanto per cominciare nel personale indicano persone che hanno i requisiti. Invece nella fase dell'esecuzione, ad esempio Rossi e Giorgio, era in regola, Bianchi e Raffaella altrettanto. Poi chi c'è in servizio? Non c'è né Rossi né Bianchi, ma c'è Lucifero e quant'altro. Allora, cosa voglio dire? Che strumenti abbiamo noi? Io ho scritto l'ANAC, nemmeno una risposta. Ho scritto il difensore civico regionale, mi ha dato ragione, ha detto che avevo diritto di avere i documenti. Bene, ho ripresentato di nuovo la richiesta al servizio appalti dell'azienda US, niente, non rispondono. Allora, la domanda finale è questa. Visto che questi incontri sono di autoformazione, io sono molto interessata a capire cosa possiamo fare. Vi ringrazio tantissimo e ancora complimenti. Bravissima. Grazie Bruna. Allora, siccome c'è solo Erminio, io raccoglierei anche la cosa di Erminio, poi risponde Simona e poi ci diamo il prossimo appuntamento. Erminio. Sì, mi sentite? Sì. Allora, io ho avuto occasione di affrontare concretamente un problema di questo tipo, che poi è andata avanti, sul tunnel tra Rive del Garda e il Brennero. E ho visto un po' una contrattualistica che appunto era, poi non è andata per fortuna, sul processo di finanzi, dove c'era effettivamente che avevano parato la schiena a tutti i possibili eventi e era praticamente una gettoniera di soldi, come si dice, una specie di strufa. Ti domandavo una cosa. La mia domanda è, ma esiste un contratto strutturato dove quando si scopre di essere finito in un rapporto con chi sta eseguendo i lavori, che è una mungitura impropria, esagerata, si possa rescindere da questo contratto in virtù magari che ogni anno viene valorizzata la somma residua che a bilancio dovrebbe essere sempre erogabile per dire, adesso tu devi ancora ammortizzare 10 miliardi, io ti pago i 10 miliardi con risorse da finanza diretta e da lì mi lo riprendo in mano prima di andare avanti e essere munto oltre il dovuto, perché dai dati di fatto emergono che questo è avvenuto, cioè per non restare sempre dentro in quel percorso fino alla fine. Secondo me è un atto che potrebbe essere dentro in un accordo dove loro devono farci nel bilancio quello che rimane da potergli liquidare e non possono dire niente se dici ci riprendiamo il tutto e ti paghiamo la ruota di investimento che tu non hai ancora da bilancio considerato, cioè non hai ancora rincassato. Se esiste qualcosa del genere o se la ritieni un'idea interessante, è possibile. Allora, Simona, le risposte a queste due sollecitazioni e poi chiudiamo. Sì, allora, è quello che dicevo prima, cioè essendo contratti atipici bisogna andare a vedere cosa è stato scritto e disciplinato rispetto all'interruzione del rapporto e quindi bisogna capire quali sono le clausole e le possibilità su cui l'ente pubblico si può muovere rispetto a quello che c'è scritto nel contratto. È chiaro che un accordo col privato quando un rapporto contrattuale non va bene si deve trovare. Innanzitutto si deve, come dire, formalmente contestare, cioè quando ci sono degli aspetti e delle criticità legate all'esecuzione di un contratto, questi aspetti e criticità la pubblica amministrazione ha il dovere di evidenziarli, contestarli formalmente, perché ovviamente se ci sono aspetti su cui ha elementi di ragione e li deve rivendicare e esercitare. È chiaro, va visto cosa c'è scritto nel contratto, cioè quali clausole sono collegate a eventuale risoluzione anticipata del contratto, se è stata disciplinata, se non è stata disciplinata, analizzare quali sono le possibilità che sono previste nel codice dei contratti, perché tutto si gioca sulle clausole contrattuali. Quindi in generale ti direi di sì, nel senso che quando un contratto, una delle due parti, si ritiene lesa rispetto all'avvolgimento del contratto, bisogna rimettersi al tavolino, discuterne, affrontare. Però va visto cosa c'è scritto nella... cioè innanzitutto va capita dalla volontà dell'amministrazione di interrompere il rapporto, contestare gli elementi che possono essere la base di questa chiusura, perché poi se le ragioni da parte del pubblico sono tali, si apre un contenzioso, quindi l'amministrazione può dire... quindi o si trova un accordo o si va in contenzioso, le possibilità sono queste. Molto dipende da quello che c'è scritto nel contratto, questo indubbiamente. No, volevo dire che non serve, non bisogna convincere nessuno, è la tua liberalità che ti tieni contrattualmente, di dire non mi va, è chiuso insomma, non un discorso di contenzioso che genera la risoluzione, anche se non ci fosse. Il privato deve essere d'accordo, cioè un contratto che si chiude prima o è sorretto da clausole che prevedono, nel caso di quell'ipotesi, la chiusura anticipata del contratto, oppure bisogna trovare un accordo, questo sì. Bene, allora abbiamo chiuso questo ciclo, intanto grazie moltissime a Simona per la chiarezza e la competenza che sempre ci riserva. Vi consiglio il libro a cui lei aveva accennato, si chiama Il grande imbroglio di Mazzucato e Collington, edizioni La Terza. Chi l'ha letto sa che è assolutamente chiaro, esplicito e insomma fa capire meglio poi nella concretezza tutte le cose che ci ha detto Simona questa sera. Raccolgo la proposta di Bruna che mi sembra assolutamente interessante, che un po' era nelle corde di noi che abbiamo messo in piedi questo corso. Ci diamo un appuntamento a gennaio, manderemo la data possibile, adesso verifichiamo un attimo come siamo messi. Il prossimo appuntamento sarà un appuntamento in cui facciamo una riflessione su il corso appena fatto sulle eventuali proposte di ulteriori approfondimenti e in generale anche se e come pensiamo che la campagna Riprendiamoci il Comune possa proseguire e in quale direzione. Quindi sarà un appuntamento se non di formazione, non con relatori o relatrici, ma di discussione fra tutte e tutti quelli che hanno partecipato a questo corso, che hanno partecipato alla prima fase della campagna per capire insieme come proseguire. Io saluterei tutte e tutti, grazie a chi c'è stato e ci vediamo presto. Ovviamente serene feste a tutti compatibilmente. Buon anno, che sarà dura, che sarà durissimo. Un idrico sociale e culturale in cui siamo immersi, però noi sappiamo che resistere è il primo passo per cambiare. Ciao a tutti e tutti, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie, ciao.